GF VIP, Edoardo Donnamaria, per una battuta non lavoro svela che gli autori non hanno mostrato tutto. Al GF VIP ha fatto molto scalpore una situazione andata in scena durante l'ultima puntata, in cui Edoardo Donnamaria ha rivelato che gli autori del programma non avrebbero mostrato alcune situazioni particolari su di lui. In particolare una battuta che avrebbe potuto compromettere la sua carriera televisiva. Durante la puntata, è stata mostrata una clip in cui i concorrenti hanno, esse, parlato di Daniele Dal Moro. Con tanto di clip non mostrate integralmente e giudicata non pubblicabile da signorini. Dopo la puntata, Donnamaria ha espresso la sua preoccupazione riguardo ad una sua frase che avrebbe potuto compromettere la sua carriera televisiva. La situazione sembra destinata a non terminare qui, con possibili ulteriori sviluppi nelle prossime puntate delle reality show. Foto credits, per gentile concessione dell'ufficio stampa and emulsion in Italy, music, un c'è game from Benson.com. Leggi anche, cosa è successo nel vantra Donnamaria e Murgia. Quel dettaglio non passa inosservato, cosa è stato detto dopo la puntata. La situazione è sempre la sua. Si poate ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care im plac. Poate nu mă brac la costum, poate nu-mi spun minciuni Sunt liber sa fiu stapan, pe ce fac si ce spun Sti, nimic nu mai e la fel Copilaria s-a maturizat sever S-a luvit pana acum de fel, de fel De oameni, de pareri, anti pur de caracter Si vad cum un...